Uomini e donne, Maria De Filippi dice addio al famoso 65enne. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Rimani fino all'ultimo, perché abbiamo una domanda per te. A Uomini e donne, famoso talk show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si incontrano e si corteggiano nella ricerca dell'anima gemella. Il pubblico in studio è coinvolto nelle vicende amorose dei partecipanti, offrendo commenti e suggerimenti. A distanza di varie settimane dalla messa in onda delle prime puntate, ritorna a occupare saldamente il suo posto in studio, anche il camaleontico Armando, che ha vissuto un'intensa estate. Tuttavia, a quanto pare, un'altra figura di spicco del programma non ne farà più parte. Parliamo di un uomo distinto ed elegante, 65enne, Elio. Proprio lui ha annunciato la sua uscita da Uomini e Donne con un video condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram e su TikTok. Nel video, il cavaliere sembrava provato ma al contempo sicuro della sua decisione. Ha salutato tutti dicendo, lascio senza aver trovato l'amore, è vero, qui non si trova. Queste sono state le sue parole, accompagnate da una frecciatina piuttosto esplicita alla trasmissione. In ogni caso, l'uomo ha deciso di alzare i tacchi e andarsene, dopo le numerose liti con la vampe, a dire il vero, anche con il suo collega Gianni Sperti. Questa sarà la sua uscita definitiva dal famoso show televisivo. Tuttavia, come si suol dire, mai dire mai, visto che, nel mondo di Maria, i ritorni sono spesso accaduti anche dopo anni di latitanza. E tu cosa ne pensi di tutta questa vicenda? Pensi che abbia ragione Elio e il vero amore non si possa trovare in questi show televisivi? Scrivilo nei commenti. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale.